No, No! LOL! Non è entrata! È una cosa un po' veloce Prese mette la M6, non capisco? Ah, non voleva fare un porto! Che! La lasciamo... Io non ho da... Da Seoul, in teoria Sì, 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 da sud, da sud Che, chi è che ha un M16? Eh, o da est, forse Te l'ho già lasciata, le M16 Ah, aspetta, c'è una, sulla montagna Preso io, eh, ho lasciato i Z C'è un buggy sulla montagna, eh? Quale montagna? Eh, a est Lascia anche sta roba A est Ah, ok, cazzo Ma lasciali lì sulla montagna Montagna est, c'è un buggy E ci sparavano, mi sa, anche Eh, sparavano sicuro, non so se Non so se erano loro Oh, loot! Qua! Lo possiamo coprire? Nooo, scollinato Eh, ci sono fermati? Sì, sì, sì E qui dietro... Ah, angolo sinistro! Oltre mezzo, altro spezzone! Oltre mezzo, altro spezzone! Oltre mezzo! C coupé! Io ho chiuso le scale! Ho una granata! Oltre mezzo! Dove sto? Oh, ma sono due squadre? Ci sono due squadre che si stanno scambiando le vincelle Ok, mi ha dato una kill, un team è morto Mi l'hai mosso Ma qua non l'ho capito, ce l'ho messo a posto Ecco lo vedi? Ragazzi, un minuto e 35 dobbiamo andare Ah l'ho visto Può partire adesso Da dietro, da ovest Merda, merda, merda Supprimi, 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 mi sto spostando Ma dove sono? Non li vedo, non li vedo Forse è vicino all'albero Vieni qua, vieni qua Stanno muovendo con la macchina L'ho preso Dov'era questo? Da ovest sta seccato Ok Oh, è qua sotto di me Qua sotto Ma è paro qui sotto No, no, è sotto, è a nord-est È qua sotto, Wolf Eh, ok Andiamo ragazzi, bisogna muoversi Andiamo, andiamo, andiamo Nooo Oh, no, questo è un bug grafico Dai Sta arrivando Grazie, ho preso Ero di lato alla macchina Ma cosa sta... Ah, ok Paro... Curati subito Riesci a cuore alto La benda prima La prima cosa la benda Ma non ce la fai Ma non ce la fai, ce la fai Vai, salita, salita Sì Eh, ci mettiamo qui Sì, sì Sì, fermati qua Sì, fermati qua Sì, fermati qua No, vai a sinistra dentro la casa Vai dentro con un inferno Eh... Vesco no Eh, 25 gradi, c'è anche 1 W Ah, no, puoi vedere Cazzo, arriva il block fino a qui? Ok Ok, verso il porto, eh Cazzo, dobbiamo mettere il più possibile da qua Ah, li vedo, il container È al sasso, è al sasso Gradi, grasso Gradi è stato nel terzo 200 polca troia che mi ranno e questo è dai container sono no questo si è dal terzo magazzino un po' pieno di gente verso il 105 c'è l'intera squadra del magazzino è stato due volte dalla montagna ragazzi mi servono un energo dove sei? no vieni qua ok è stato due volte è riuscito a scappare partiamo comunque mi sa la macchina è fuori? si si cazzo non so non so come partire ah non riesco a scendere non so non so l'unica ragazza è uscire adesso sono fuori anche loro vaffanculo scendo piedi vai vai paro paro ho partito vai 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 no anche la roba è scarsa sta sta eh cazzo 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 sto di merda sto di merda c'è gente che fa tutte le parti che spara davanti a noi tom ma dai come ha fatto questa mamma mia è pieno di gente davanti a me sono tre anche davanti a noi a est non li vedo questi a est eh sono proprio a 120 davanti a noi questo come ha fatto eh lo vedo lo vedo dov'è? dov'è? guarda ce ne sono due dove sono io qua eh lo so ma ce ne sono più di due lì non lo vedo quello 105 eccolo con la 105 dietro l'albero io sono esattamente tre qui dentro sto pazzo eh io non riesco a mirare non ho più il lotto però cazzo eh li devono uscire tutti da lì eh eh lo so lo so io sono imbibili non li possono colpire no ho due davanti che corrono eh si stanno buttando sui container quelli la eh credo ma non è un'idea sbagliata si c'abbiamo gente che contiene no è un'idea molto sbagliata perchè quasi sicuramente non si crede sui container ecco ecco andate avanti stracciate avanti wolf buttati tutto a destra sto andando ci sto andando no buttati a destra eh un attimo un attimo un attimo no no un attimo c'è una copertura lì come è coperta? si striscia più a destra black e più basso ok 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 scammati scammati occhio l'albero eh 101 occhio davanti che c'è ancora gente lì stati un po' più separati si black vai però avanza 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 arrivo al blu eh guarda che team che c'è a sinistra merda scammati 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 black vai a sinistra siamo fuori eh io salvo 5 vivi erano 5 vivi 6 noi gli altri 3 tom sta tutto bene tu sei a sinistra merda 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 tu riesci a buttare via lo zaino? no non riesco fermi 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 non vi hanno visto io posso buttarlo io tranquillamente allargati io si ferma non stai fermo lì che c'è l'erba più alta eh ma ragazzi il cerchio il cerchio fuori anche per loro dai massimo di granata dai no ma via che è impianata in granata vai un po' più da testa di merda no ma che cazzo tiri di granata non c'è nessuno lì ma dove li tiri? ma ti entri sono lontanissimo sono controllato sono controllato non c'è nessuno lontanissimo non c'è nessuno lontanissimo no no eccolo 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 mi sto chiudendo eh eccolo tom sono lontanissimo tutti fuori sono usciti tutti tipo c'è nessuno ti convi ti è morti sii sii bravo si sono suicidati questo è bellissimo questo è messa